Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi ho altre questioni del Marchese, la tredicesima se non erro, ci spostiamo dall'ambito Juve, non parliamo di questo, ma lo faremo dopo la sigla. Allora, come sapete, negli ultimi giorni, forse anche le ultime ore, è stato scelto di Biagio come allenatore CT ad interim della nazionale maggiore e essendo già CT della nazionale Under 21, chiaramente questo è un compito in più, appunto, in attesa che arrivi giugno, che direi magari le decisioni per un nuovo CT vero e proprio. Servirà, insomma, alla nazionale per fare questi amichevoli contro Argentina e Inghilterra che si saranno nei prossimi mesi. Quindi, semplicemente questo. La prima domanda, quindi, è se siete d'accordo con la decisione di mettere lui come allenatore provvisorio, sì o no, la domanda, la risposta deve essere questa e, ovviamente, la domanda che vi porto oltre a questa è quale, secondo voi, sarà poi effettivamente scelto come CT definitivo da luglio in poi, anche tenendo conto di quelli già liberi, di quelli che potrebbero liberarsi anche con i movimenti del mercato e così via. Quindi le domande sono due, la prima sul di Biagio, d'accordo, sì o no, e la seconda è quale sarà, secondo voi, allo stato attuale, contando che siamo già a febbraio, quindi non è che manchi proprio tantissimissimo, quale sarà, secondo voi, il CT della nazionale che dovrebbe portarci, speriamo, agli europei e chissà forse anche i mondiali, ma non guardiamo troppo in là che recentemente le delusioni sono tante. Due domande, due risposte che darete voi, qui sotto, come sempre, ne discutiamo. Ciao ragazzi e alla prossima! Paura, 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 paura.